Ciao, sono Roberto Scurto, fondatore di Partita IVA24, la società di consulenza leader in Italia nella contabilità online per imprese e professionisti. Se sei arrivato sul nostro sito, sarai sicuramente alla ricerca della modalità migliore per aprire una partita IVA, risparmiare sulle tasse e gestire comodamente tutto da casa. Partita IVA24 non è soltanto un servizio di commercialista online, ma un insieme di strumenti e risorse molto utili per chi si vuole mettere in proprio. I nostri clienti infatti possono contare su un consulente dedicato che sarà il tuo referente nella gestione quotidiana della tua partita IVA. Poi la possibilità di aderire al regime forfettario, un regime fiscale molto vantaggioso che permette di pagare il 5% di tasse per 5 anni e avere uno sconto considerevole sui contributi IMSS. Inoltre avrai un'area riservata di ultima generazione per gestire tutti i tuoi documenti e conoscere in anteprima l'importo di imposte e contributi che pagherai l'anno successivo, ogni volta che emetti una nuova fattura. Esatto, stiamo parlando di pianificazione fiscale. Bene, ricevi subito la nostra consulenza gratuita compilando il form qui sul sito. Nell'attesa potrai consultare tutti i nostri contenuti gratuiti. Ciao!